Cammarie Cameriere Comandi Ancora uno buon uomo? Di cosa ha preso il signor? Ma che fai tu qui? Perché non attendi al tuo servizio? Non posso, sono colto Ma a lei piace Johnny Long Eh lo so, fossi musicista avrei qualche probabilità Già ma non lo sei Sono una gran bestia, non ho preso lezioni di niente Non suoni nessun strumento Aspetta, mi viene un'idea Sai cosa c'è qui dentro? Un grammofono con dischi C'è un disco di pianoforte Ecco lo dovrei portare dall'altra parte della piscina Allora porterò dall'altra parte Ma nient'ha fatto invece la doperiamo qui Io metterò questa fare dietro quel pianoforte Lasciami finire, tu vai da lei E le chiedi se vuol sentirti suonare il pianoforte Ma che buonanotte? Tu vai lì, ti metti al piano e dici avanti Quando dici avanti io faccio andare il disco Crederà che suoni tu Quando poi dici avanti un'altra volta io mi fermo Oh, facciamo un'altra volta, bene? Fermo Ah ah, andiamo, ecco Salve Salve Come sta? Oh bene, lei come sta? Lei ama i musicisti Oh, li adoro per questo Davvero? Io suono il piano Non lo sapevo che suonasse il piano E lo suona a orecchio Oh, non lo sa Con le mani come fanno tutti quanti Fa male suonare con le orecchie Oh, lo credo Fa male, vuol sentire un pezzo di bravura Volentieri Venga Le ricresci sedersi là? Ha fatto Grazie Ora stia buona e io le suonerò il pianoforte in un modo che non avrà mai nemmeno sognato Pezzo di bravura Sì Avanti Bello, eh? Avanti Ecco qua Come le pare? Ancora? Avanti Lo devo dire io, avanti Avanti Non adesso, stupido Come le pare? Oh, molto bene Ma perché continua a dire avanti? Ecco Sì Avanti Oh, ma vada No, non lo dica Seguiti Ma meno male, altrimenti non si andava più avanti Avanti Vuole che le suoni qualche altra cosa? Mi fa sentire il preludio in dominore di Rachmaninov? Rachmaninov? Già Non era quel russo che stava al guardaroba alla taverna moscovita? Ah No, no, credo di no Rachmaninov! Avanti Avanti E' bene, aspetta Eh, anch'io Avanti Vai Non sono in forma Avanti, avanti Bello Bello Bello, vero? Con una mano Senza mano Avanti 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 Ho detto Avanti, avanti Smetti, va a uccide il pianista in questo modo Avanti Si dovrebbe proprio vergognare, credevo che fosse un bravo ragazzo Sono stata buona con lei, in cambio mi gioco un tiro simile Lei non è che un pagliaccio Tu credevi che ci sarei cascato, eh? E invece no Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti